Siamo con Maria Luisa Pacelli, direttore del Palazzo dei Diamanti. Dottoressa, ad aprile si aprirà la mostra La Rosa di Fuoco, che ripercorre le arti a Barcellona tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Intanto questo passaggio non è casuale perché parliamo di un'altra esposizione universale. Sì, lo spunto per questa mostra è stato proprio l'Expo di Barcellona del 1888. In concomitanza con l'Expo milanese ci interessava raccontare il segno che ha lasciato questa esposizione universale in concomitanza naturalmente con altri fattori sulla vita artistica e culturale di una grande città come Barcellona tra i due secoli. Perché è così interessante questo ventennio-trentennio di Barcellona? Perché descrive una parabola molto particolare che può forse oggi ancora raccontarci e dirci qualcosa. Nel senso che questa fioritura artistica, architettonica, questa crescita urbanistica ed economica della città ha avuto degli aspetti piuttosto contraddittori. All'ascesa della borghesia, in parallelo, c'è stato un impoverimento molto forte delle classi più deboli che in qualche modo vennero spinte verso la periferia della città. E quindi la mostra racconta un po' anche una parabola da questo punto di vista. L'avvento di queste correnti artistiche, la crescita della città dal punto di vista architettonico e urbanistico, ma allo stesso tempo le grandi tensioni sociali che scaturirono e che ebbero il proprio culmine nel 1909 con quella che viene ricordata come la settimana tragica, una settimana in cui ci furono più di 50 attentati. E da questo il nome La Rossa di Fuoco, che era il nome che veniva dato a Barcellona nei circoli anarchici internazionali. In mostra c'è parecchio Pablo Picasso, però è un Picasso che di solito non vediamo, perché in realtà Picasso ha vissuto pochissimo in Spagna. Sono proprio quegli anni a cui si fa riferimento? Sì, sono gli anni in cui lui ha vissuto naturalmente a Barcellona, sono gli anni anche della scoperta di Parigi. Infatti nelle opere che ci sono in mostra si vedono, si percepiscono chiaramente delle influenze di ciò che avveniva a Parigi in quegli anni, che come sappiamo tra fine 800 e inizio del 900 era una fucina incredibile di arte. E questo destino, diciamo, o questa propensione verso la Francia, verso Parigi, oggi accomuna Picasso con altri artisti di Barcellona della sua generazione, suoi amici, con i quali condivideva anche degli atelier, perché in quegli anni lui vive a Barcellona, ma trascorre dei periodi a Parigi. E infatti alcuni temi che lui tratta in questi anni, come il caffè concerto, il teatro, le prostitute, sono temi anche prettamente parigini. Ciò che sarà interessante sarà vedere la grandezza di questo artista fin da giovane, ma anche vedere come non fosse un artista isolato e come lui cresceva assieme a dei suoi colleghi catalani, anche loro. Grazie.